Ragazzi siamo finalmente arrivati alla fine di questa sessione di calciomercato Questo è l'occhiaio di colui che è stato a cercare notizie per tutta la giornata Grazie del supporto Cioè grazie della compagnia anche perché tra telegram, messaggi privati eccetera Ci siamo fatti compagnia, ci siamo tenuti compagnia quest'oggi Quindi mi piace, commento, iscrivetevi se non avete ancora fatto E andiamo a parlare dell'ultimissimo colpo di mercato Prima però di parlare di lui vorrei ricordarvi che c'era, cosa per me non vera ma se ne è parlato C'era la possibilità di rivedere Lazaro a Palermo C'era questa possibilità di trasformare un mercato meraviglioso in un mercato... Ma comunque, tralasciando tutto Tralasciando tutto Ragazzi, questa sessione di mercato è stata una delle più belle, secondo me Di gennaio soprattutto Da non so quanti anni non facevamo una sessione di mercato così Così scoppiettante Ci sono stati ben 13 colpi se non sbaglio 7 sessioni e 6 acquisti Ci siamo liberati di giocatori che non servivano Ci siamo liberati di alcune zavorre Qualcuna, una sola è rimasta Ma comunque Sappiamo che questo calcio di mercato Essendo in Serie B È molto limitato Per quanto... Per colpa Grazie per colpa Della lista degli under e degli over Soprattutto perché gli under può prenderne quanti le vuoi Quest'oggi come ultimo colpo di mercato È arrivato Edoardo Masciangelo Giocatore che io pensavo alla fine non arrivasse più Perché questa mattina avevamo Chiuso Ce l'avevamo chiuso veramente da ieri Ma poi l'ufficialità È arrivata sempre stasera Ma io avevo già letto il video uscito oggi Che era praticamente ufficiale Quando dico io ufficiale è ufficiale E avevamo chiuso per Giuseppe Aurelio Giocatore del Pontedera Giocatore in rampa di lancio Ex Sassuolo Primavera Sassuolo Comunque recuperatevi quel video se volete sapere qualcosa di lui Punto Edoardo Masciangelo Ex Benevento Un altro nato a Roma Cioè ragazzi ma io capisco che C'è questa forte amicizia Siamo praticamente gemellati con la Roma Però non è che tutti i giocatori nati a Roma possiamo prenderli Perché pure Aurelio è nato a Bracciano in provincia di Roma Masciangelo è nato a Roma Ma quanti ce ne sono Troppi ne abbiamo Va bene così Allora c'è qualcuno che si lamenta Perché si lamenterà sicuramente Perché ovviamente Masciangelo ne ha Io ragazzi con tutto il rispetto del mondo Mi avevo l'oggetto del video di oggi Ma secondo voi veramente L'Atalanta ha offerto 7 milioni per Azi E il Modano non gliel'ha venduto Poi con tutto il rispetto Magari Azi farà 30 gol quest'anno in Serie B Col Cagliari in metà stagione E il prossimo anno gioca alla Juve titolare Per dirvele una Sempre in Serie B Però Il campo sarà a parlare Arriva un giocatore Che l'unica cosa che posso dirvi A parte che secondo me può essere utilizzato anche come braccetto di sinistra Quindi magari sostituire il buon Marconi In caso di squalifico alto Perché comunque ha un buon sinistro E se vi state rendendo conto che Tra quelli di difesa Quello che imposta di più nella nostra difesa È proprio il centrae di sinistra Cioè Marconi Quindi chissà Masciangelo non dovesse Essere utilizzato anche per In quella zona del campo Io sono contento del suo arrivo Sono sincero Soprattutto perché Arriva anche Aurelio Che può giocare sia a destra che a sinistra Mi hanno detto Quindi chissà E soprattutto viene in prestito Anche lui con diritto di riscatto Quindi capiremo poi se verrà acquistato il prossimo anno Ma ha sei mesi per dimostrare di Di voler giocare a Palermo C'è una cosa molto curiosa Che magari molti non sanno Ricordiamo che Masciangelo è un Uber Quindi Al 90% O mettono fuori rosa Stulatz Perché è infortunato E lo sarà ancora fino a fine aprile Oppure Mettono fuori rosa La Zavorra Di cui non ci siamo liberati Ma lo scopriremo molto molto presto Questo ovviamente Ne parlerò poi Nei prossimi video Forse Vedremo Probabile Comunque ragazzi La cosa che a me Ha stupito di Masciangelo Per le poche volte che l'ho visto giocare È il suo sinistro Ha veramente un bel piede Pepe Fettici approva Ma vi posso assicurare Che ha veramente un bel mancino Anche contro i noi Lo ha dimostrato Lanciava molto bene Poi da Benevento Ti danno E una pippa clamorosa Ricordatevi ragazzi Quando un giocatore Va via da un'altra squadra Almeno chi non era Gesù Cristo Tutti sputano il piatto Dove hanno mangiato Quindi Accettiamo Apprezziamo Sono contento del suo arrivo Non è un Primo Il primo Il terzino più forte O l'esterno Il centro campo Più forte della categoria Ma a noi va bene così Perché arriva come riserva E serve Quando non ci sarà sala Perché il titolarissimo In questa squadra È sala Poi se Masciangelo Vesse prendere Il posto di sala Vuol dire che In campo Darà di più Quindi Sono contento Perché andiamo a A colmare Quella lacuna Ripeto È vero che adesso Lì su un assista Saremo in tre Ma Aurelio Chissà raga Aurelio potrà Potrà essere Spostato a destra Ma a destra Potrebbe giocarci anche Buttolo Ricordiamo che c'è Buttolo E chissà Se Corino Inventa Buttolo Esterno In una difesa 5 Bloccato ovviamente Anche se per me Buttolo è un braccetto Di destra Ma comunque raga Sono molto contento Una cosa che molti Non sanno Ed è un dato Molto molto curioso E se siete arrivati Fin qui Scrivete assurdo Nei commenti Raga Ma sapete Allora Masciangelo Nasce nel settore Giovanile della Roma Poi va a Firenza A giocare Sempre nel settore Giovanile In primavera 1 Se non sbaglio E poi gira un po' Di squadra L'Arezzo Lo acquista La Juve Under 23 E la Juve Under 23 Poi lo Manda in prestito Al Pescara Infine però Il Pescara Lo acquista Come ha fatto Ad acquistarlo Il Pescara Ragazzi Scambio Di cartellini Tra il Pescara E la Juve Under 23 Tra Masciangelo Da una parte E Matteo Brunone Dall'altra Clamoroso Assurdo Cioè se ci pensate Una cosa clamorosa E si ritrovano Tutte e due Qui al Barbera Da compagni Da compagni È una cosa È un dato Molto curioso Comunque ripeto Ragazzi È un terzino Esterno di centrocampo Vedremo Se poi Come ho detto io Verrà utilizzato Anche In caso di bisogno Come Centrale Di sinistra Del bracetto Di sinistra Sono soddisfatto Sono contento È l'ultimo colpo Di questo mercato Io vi ho parlato Anche di qualcos'altro Che Stavamo provando a fare Ve ne ho parlato Nei gruppi Telegram Dove Dove Discutiamo Non si è realizzato Ma comunque Non ve ne parlerò È giusto che Ci abbiano provato Non è andato Come ci aspettavamo Però Sono sincero Sono contento così Perché Sono certo Che il giocatore Che non andrà via Farei tutto Per dire Io in questo paese Non posso giocarci Almeno me lo avolo In qualche modo Ragazzi Me lo avolo Comunque ragazzi Fatemi sapere la vostra Per quanto riguarda Masciangelo E' stato un parto Anche lui Alla fine È arrivato Abbiamo preso Due giocatori In questa ultima Sessione di mercato Non compravamo Giocatori all'ultimo Giorno di mercato Non so quanto tempo Ragazzi C'è veramente Una sessione Di mercato Top 13 operazioni A gennaio Sono veramente Tante Ditemi quindi la vostra Tramite un commento Qui sotto Domani Uscirà Il pagellone Del calcio Mercato E starò curioso Di sapere La vostra In quel video Ma anche Ripeto Potete iniziarmi A dire Sono stanco Cosa ne pensate Di Masciangelo Di Aurelio E di tutti Quelli che sono arrivati E anche delle cessioni Sempre e solo Forza Palermo E anche delle cessioni